Vabbè, poi sei stato al Trinity College di Dublino, abbiamo avuto modo negli scorsi mesi di fare una video-intervista simpatica sul tema dei prevetti relativi ai vaccini, che aveva avuto anche un certo seguito, perché lui era stato ospite di una trasmissione TV Rai, in cui non gli avevano dato modo di dire le cose correttamente, e l'ho detto, lo so che i miei canali social non sono la Rai, ma vediamo di fare attività di divulgazione, lui su questo è sempre molto molto attento, e ho ritenuto fosse importante il suo contributo da qua, anche perché stando a Dublino porti il punto di vista, pur essendo un giurista di formazione italiana, adesso anche il punto di vista di un diritto che funziona diverso, pur essendo Unione Europea, quindi il caso irlandese è davvero interessante, poi avremo la collega Ducato Rossana, che ci porta il punto di vista invece sempre anglosassone, ma da un altro pezzo di mondo, un altro pezzo d'Europa, che è quello della Scozia. Quindi adesso sei il Trinity College di Dublino, dove sei fellow e professor, professor of law. Ci parlerà, il titolo del suo intervento è Il ruolo delle piattaforme di condivisione, scenari attuali e futuri alla luce dell'esperienza europea e americana. Allora, Simone, grazie per avermi invitato a questo convegno in cui rivedo persone che conosco da tanto tempo e conosco delle persone nuove, mi fa sempre piacere. e cercherò di essere breve, anche perché il professor Ricolfi e la dottoressa Chimienti hanno descritto molto bene lo scenario della direttiva e del tentativo dell'Italia di metterla in atto. Lasciatemi dire un po' da outsider, che ormai mi considero tale, io capisco tutte le difficoltà italiane nell'avere a che fare con questi interessi, però il presente in qualche modo ci vede soccombenti, perché questo è sicuramente il Parlamento peggiore per qualità dalla seconda guerra mondiale a questi giorni. Insomma, dall'estero fa ancora più pena vedere i lavori parlamentari portati a questo livello e trovare delle cose che non hanno apertamente senso. Poi è chiaro che paesi più opportunisti come l'Irlanda rubano tanto mercato e tanti soldi all'Italia, ma se l'Italia si fa rappresentare da personaggi simili a livello parlamentare è inutile poi organizzare i convegni, perché secondo me non c'è molto da fare. La qualità è troppo bassa. Ora cercherò di spostare poi il dibattito, il dibattito è veramente, io Simone faceva riferimento al mio intervento sui vaccini, io non sono esperto di brevetti, insegnando la qualità intellettuale, ma noi abbiamo un'informazione di pessima qualità, perché alla fine è un'informazione completa, non si fa solo con gli stakeholder, si fa con esperti che non rappresentino nessuno. Io sono intervenuto su Rai News a un certo punto, perché Rai News chiamava solo i lobbisti, non si può fare il dibattito pubblico solo con i lobbisti, perché ognuno parla però d'omo sua. Poi ci vuole un'informazione corretta, ci vuole gli esperti che non siano al libro paga di nessuno, che parlino in maniera assolutamente disinteressata, però con cognizione di caso. Questo purtroppo nella nostra informazione non accade, parlo peraltro da un paese che ha lo stesso problema anche in Irlanda, guai a toccare gli interessi delle piattaforme digitali, non troverete un media, un medium irlandese, che sia un giornale o che sia l'equivalente della Rai, che parli male di Google, di Facebook, che dica che l'Irlanda sta di fatto frodando l'Unione Europea sulla questione fiscale. Però voi siete in questo dipartimento, il messaggio che una facoltà di giurisprudenza sarebbe probabilmente tempo perso, ma siccome questa è una facoltà in cui fate un master di editoria, una facoltà umanistica in cui conta la libertà di espressione e la qualità dell'informazione, mi sento di dire queste cose in maniera del tutto libera anche perché non me lo posso permettere, quindi questo è un grande lusso. Allora, cercherò di spostare il focus del discorso sull'Europa e sugli Stati Uniti, un po' perché è lì che si decidono le cose, l'Italia ormai segue. Come dicono a Roma, ruota ormai, nel senso che abbiamo anche perso la leadership in Europa, ci permettiamo solo di seguire e farlo male. Non siamo noi più a decidere, ci spartiamo poco e nulla, siamo un grande mercato, ma siamo un mercato in cui c'è qualcuno che viene da fuori e noi abbiamo perso la leadership per molte cose in questo campo. Questo ci può dire senza passare per anti-italiani in qualche modo. Quindi le cose che veramente sono importanti in questo ambito sono le cose che succedono a Bruxelles, che succedono a Washington DC e le cose che succedono in fase di attuazione di obblighi di proprietà intellettuali globali. Quindi immaginate che comunque l'Italia è un piccolissimo player in questo ambito dove le decisioni vengono prese soltanto in parte, soltanto per calmare, come dire, spiriti bollenti ma che bollono soltanto in un mercato soprattutto in modo poco rilevante a livello globale. Le slide sono scritte in modo tale da poter essere anche lette e fanno riferimento a delle ricerche che ho fatto negli ultimi due anni, prendendo come punto di riferimento il conflitto tra Stati Uniti ed Europa. Voi dovete immaginare che questa direttiva di cui si è parlato finora è una direttiva che non solo, come diceva Simone, come dicevano i relatori che mi hanno preceduto, tende a aggiornare la normativa, ma tende a arginare un fenomeno, cioè quello, il fenomeno a cui faceva riferimento la dottoressa Chimienti, che il protagonista del diritto d'autore, cioè l'autore, il creatore, venga progressivamente dimenticato e ci si in qualche modo appiattisca un po' sulle posizioni dell'industria l'una contro l'altra armate, io direi, perché poi il rischio di questo dibattito è che del diritto d'autore, del diritto di chi crea, anche vostro, ci si dimentichi completamente. Voi dovete immaginare che l'articolo 17 di cui si è parlato varie volte è un articolo che, insieme ad altri articoli che vi danno un diritto di accesso delle informazioni commerciali riguardanti le vostre creazioni, se le fate, è un diritto che ristabilisce una priorità. La priorità è che sulle reti sociali, in qualche modo, valgono le regole che valgono altrove. Per almeno 15 anni le reti sociali hanno sovvertito la logica al diritto d'autore in maniera benevole, io cerco di spiegare adesso come, perché in qualche modo si è data una grande, si è concesso una grande limitazione della responsabilità alle piattaforme, per quale motivo? Ma perché all'epoca non esisteva l'infrastruttura, quindi se ci fossero state le regole classiche della proprietà intellettuale, come diceva la dottoressa Chimienti, l'esclusività era il vero cuore della protezione, con l'esclusività se tu devi chiedere un permesso a ciascun titolare di uno dei materiali che qualcuno tra gli utilizzatori della rete mette online, soprattutto su piattaforme dedicate, il contenuto non va su, cioè in teoria dovresti tenerlo giù, dovresti tenerlo inaccessibile. Bisogna tenere presente anche un fatto molto importante, questa direttiva, Simone lo ricordava poco fa, è una direttiva che viene approvata in Italia, vent'anni dopo la direttiva più importante a livello europeo sul diritto d'autore che è la direttiva sul diritto d'autore nella società dell'informazione. Nel 2001 non c'era quasi niente di quello che vediamo oggi su internet, soprattutto non c'era la logica delle piattaforme e la logica del cosiddetto capitalismo della sorveglianza, di cui si scrive ormai in maniera quasi classica, nel senso che ormai, facevo riferimento presso Ricolfi a questo, che le piattaforme agiscono su più mercati e sono fondamentalmente dei fornitori di servizi gratis per la grande collettività, ma poi alla fine giustamente il loro compenso sono i nostri dati, dati che servono a profilazione e alla grandissima attività mercantile di queste piattaforme sul versante della pubblicità. La pubblicità paga tutto. Ovviamente quando si parla di grandi piattaforme, e questo la direttiva lo prende in considerazione, così come la legislazione americana, le grandi piattaforme di cui parliamo sono quelle di cosiddetto user generated content. Ovviamente quando si parla di user generated content c'è sempre il problema di capire se il contenuto è generato dall'utente o l'utente semplicemente lo prende da qualcun altro e lo butta su. Si è molto parlato, anche la commissione adesso nei suoi scritti cerca di correggere un po' la, perché no, le parole contano, le parole sono pietre, non è tanto user generated content, in moltissimi casi è user uploaded content. Io prendo il contenuto di Simone, non gli chiedo niente, lo metto su. Poi sta a Simone andare a chiedere alla piattaforma, rimettilo giù oppure mi paghi qualcosa, ma devi avere una mia licenza, dice Simone. Fondamentalmente l'articolo 17 riconosce questa prerogativa di Simone come di tutti gli autori che vogliono utilizzare la rete in maniera, io direi, democratica, legittima e senza, come dire, forme di free riding, direbbero gli inglesi, cioè di scroccare i contenuti altrui. Dal punto di vista legale, soprattutto voi che non siete, la parte di voi che non è giurista, cercate di distinguere in qualche modo le piattaforme in cui il contenuto è on demand, Spotify, Netflix, Deezer e lì si tratta di forme di messa a disposizione di tipo quasi di radio televisivo, se ci pensate, perché voi pagate comunque una sottoscrizione e la responsabilità è diretta, i contenuti vengono decisi, no? Anche per i podcast ormai vengono decisi da Spotify, c'è un'autorità apicale, no? Mentre le reti di condivisione social media o reti sociali che dir si voglia sono veramente soggetti ibridi ormai. C'è, secondo me, e qui mi correggo, abbiamo avuto quel piccolo dialogo del professor Ricorsi, c'è un ambito in cui le piattaforme, soprattutto alcune, sono ancora innovative. Gli ambiti in cui gli utenti sono creatori, non semplicemente scrocconi o pirati della domenica, o persone che fanno paradie o mettono su dei memes online, che va bene anche per la libertà di espressione, però la grande innovazione di queste piattaforme è il fatto che stiano diventando i nuovi editori globali per ciò che riguarda l'audio-video e la musica. Voi dovete pensare, se andate a New York, a me è capitato di intervistare il top management di YouTube a New York, nel Chelsea Market, non a caso quelli che si occupano di contenuti non li tengono a San Bruno, dove si fanno la tecnologia, li tengono nel cuore di Manhattan, e loro sono quasi tutti ex top manager di MTV. Che cosa fanno? Bravi, intelligenti, belli da vedere, anche proprio charming, come dice in inglese. E cosa fanno? Molti di loro fanno scouting, vanno in giro per il mondo. C'è un ragazzo che ho parlato, per esempio, che era ex MTV, che si occupa quasi assolutamente di Centroamerica e Latinoamerica. Cosa vuol dire? Loro vanno a costruire in questi paesi degli studi veri e propri di registrazione degli YouTubers di maggior successo, e questo lo fanno anche le altre piattaforme, ma YouTube è la prima da questo punto di vista, in modo tale che a queste persone dell'industria vecchio stampo, delle vecchie, dei vecchi studi di registrazione, delle vecchie majors, non gli importi assolutamente nulla. Anche se la registrazione non contempla queste cose, la produzione che queste aziende fanno è una produzione che ormai taglia fuori quei player di cui noi in Italia ci preoccupiamo tanto, giustamente perché sono le nostre constituencies, direbbero gli inglesi. Però il mondo è andato avanti e oltre a quei player che sono player tradizionali, ci sono dei player che sono quelli che fanno la produzione dal basso, direi. Quindi quando parliamo di user-generated content, stiamo attenti che è diventato così, nel senso che non è solo io che metto il programma di rete Mediaset perché mi fa divertire, ci faccio una caricatura sopra, cosa che peraltro potrebbe essere legittima alla luce della tutela della parodia online. No, sono io che nasco con pochi follower, per ragioni che possono anche sfuggirmi dal punto di vista della qualità, divento una, quello che oggi si potrebbe definire un'influenza, ma semplicemente una persona che ha molto successo perché fa delle cose interessanti e non vendono, la mia ambizione non è più vendere dei contenuti alla RAI o iscrivermi alla CI, è riuscire ad avere almeno un milione di follower su YouTube per avere una partnership con YouTube, va bene? Ovviamente di queste cose nella registrazione italiana direttamente non può esserci nulla perché il dibattito è 20-25 anni indietro, però con gli strumenti del 2021. Da questo punto di vista perché è importante la direttiva che comunque spara un po' nel mezzo, nel senso che la direttiva rispetto alla legge italiana ha il vantaggio di dare delle degli obiettivi agli stati? Parliamoci chiaro, l'Italia non è l'unica a aver fatto una brutta figura, comunque quasi tutti i paesi dell'Unione Europea sono stati in ritardo nell'implementare la direttiva, altri paesi oltre all'Italia hanno una posizione non leale nei confronti della direttiva, la Francia, la Germania stanno creando questa specie di, è una iperfettazione della direttiva che è diventata più grande di quella che doveva, quindi per carità l'Italia non è in buona compagnia purtroppo, però fondamentalmente c'è quest'idea che siccome questi media sono media che stanno rimpiazzando la televisione, la radio, devono in qualche modo soggiacere le stesse regole, non c'è ragione per cui queste queste piattaforme non debbano essere rispettose dei diritti come lo sono gli altri gli altri media. Poi metterò ovviamente le slides a disposizione. Allora il punto è questo, se all'inizio del millennio questa limitazione di responsabilità di cui ho parlato brevemente ma che troverete poi nelle slides, avevano senso perché bisognava rafforzare le infrastrutture digitali, in questo momento cosa ha fatto l'Europa? Quanti di questi servizi che voi utilizzate sono europei? Avete un'idea? C'è una qualche piattaforma di quelle che tutti voi usate o dove andate a trovare i contenuti che sia europea? Spotify di origine svedese, d'accordo? Sì, però Spotify, parliamo di social media. Sì, però parliamo di piattaforme che muovono i miliardi. Parliamo di piattaforme che mettono a soccuadro l'industria dei contenuti, delle piattaforme di reti sociali. Ce n'è una che è europea? No, non ce n'è nessuna. Cos'è che cosa fa l'Europa? È un mercato tecnologico? Sì, lo è, ma nella misura in cui è un'economia della conoscenza. Le tecnologie, a parte Spotify che poi tra l'altro è poi migrata piano piano altrove e poi è diventata in qualche modo una creatura delle majors in senso buono, nel senso che poi l'hanno molto rafforzata rispetto al progetto originario, però quando parliamo di piattaforme nel senso del professor Ricolfi sono tutte o americane o TikTok cinese. Quindi alla fine questa reazione dell'Europa è una reazione esistenziale, nel senso che è una reazione per dire noi non abbiamo gli strumenti e le infrastrutture dove vengono sfruttati i nostri contenuti, sia i contenuti quelli delle industrie tradizionali, sia i contenuti dei nostri creatori individuali. Che cosa facciamo? A distanza di vent'anni dalla direttiva sul commercio elettronico che conteneva questa limitazione di responsabilità molto simile a quella del Digital Millennium Copyright Act degli Stati Uniti nel 1998, l'Europa ha cambiato idea. Molto semplicemente change of policy, un cambio di politica. Hanno capito che non poteva andare avanti così. E quindi che cosa hanno capito? Hanno capito che il diritto d'autore sulle piattaforme non vale più assolutamente nulla se all'autore o al creatore o al produttore non si forniscono dei dati. Io ho scritto recentemente un articolo in cui dico che è un'economia basata sui dati, il diritto c'è. Abbiamo tutti i diritti possibili sulla carta. Qualcuno mi correga se sbaglio, ma non può esistere una protezione al diritto d'autore più forte di quella che abbiamo sulla carta. Cioè io non so immaginarla. Bisognerebbe diventare regimi autoritari, non so, il fascismo del diritto d'autore, roba del genere. Ma non esiste, non esiste un sistema in questo momento a livello europeo e a livello globale. L'estensione dei diritti dei giornali da questo punto di vista è plateale, nel senso che c'è adesso. Magari funzionasse, il problema è che non funzionerà. Il problema è che non funzionerà perché il problema lì non è un problema di diritto d'autore, è un problema di antitrust puro. Perché se Google ti obbliga, poi possiamo vedere cosa ha fatto l'Italia, cosa sta fatto soprattutto dalla Francia, ma se tu mi puoi dare tutti i diritti che vuoi, il diritto del giornalista che sei comprato, il diritto sui generis per due anni, ma se poi io sono così forte che ti obbligo a darmi una licenza gratuita, puoi avere anche una pila di diritti, ma non valgono nulla o valgono poco. Credo che sia così, anche perché i paesi che stanno risolvendo il problema, che poi non lo risolvono, ma lo risolvono dal punto di vista non del diritto d'autore, ma della posizione e nella contrattazione. Comunque, dovete capire questo, che la reazione dell'Unione Europea, di cui l'Italia è in qualche modo una seguace perché in parte fa anche l'Italia le leggi europee, però io vi lascerei andare al Parlamento Europeo a vedere qual è il nostro contributo e confrontarlo con quello di altri. Io ho lavorato a Bruxelles per due anni in un centro, che è un think tank, dove fondamentalmente analizzavamo le politiche europee, andavamo a parlare con i parlamentari. Andate a paragonare... no, 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 ovviamente no. Andate a paragonare il lavoro che fanno i danesi, gli olandesi, i ragazzi di 30-40 anni parlamentari europei, andate a vedere i parlamentari italiani. Sì, no, lei è formidabile, poi io con lei non sono d'accordo quasi su niente, però è una ragazza di 30 anni, tedesca, che è formidabile. Da noi quelli di 30 anni non sanno le cose, quelli che sanno le cose sono troppo vecchi, perché così è, e quindi la nostra rappresentanza è una rappresentanza così, non di cui andare particolarmente fiero. Sì, assolutamente, anche a me no. Quindi il cuore della mia presentazione è in qualche modo nel conflitto Europa-Stati Uniti. L'Europa non ha alcun incentivo in questo momento a dare la priorità alla libertà di espressione sulle piattaforme in senso di neutralità delle piattaforme. Ha un incentivo, ha una priorità di tipo esistenziale, commerciale, di proteggere i contenuti prodotti in Europa. E con una, quella parte della direttiva che il professor Ricolfi elogiava, elogio anch'io, mettere i creatori che siano piccoli o grandi nelle condizioni di sapere che cosa accade sulle piattaforme e quali dati vengono raccolti e soprattutto come vengono utilizzati e qual è il profitto che le piattaforme producono. I diritti d'autore nelle piattaforme senza i dati sono lettera morta. Anche perché senza i dati tu non puoi utilizzare poi gli strumenti dell'articolo 17 perché quei filtri che giustamente molti criticano sarebbero filtri come delle accette anziché come dei filtri intelligenti. Adesso siamo in età dell'intelligenza artificiale, dei software agents, senza le informazioni che partono dagli enti di gestione collettiva, dagli autori, dai grandi editori di qualsiasi tipo di contenuto che possa essere sfruttato sulle piattaforme. Se non c'è un input da parte dei creatori, questo tipo di bilanciamento non si può fare. Quindi è tutto basato sulla condivisione dei dati. Lasciatemi concludere cercando di identificare in due minuti i maggiori problemi per il diritto d'autore sulle piattaforme. Al netto delle specificità dei singoli settori, ovviamente qui c'è un interesse specifico sull'editoria ed è assolutamente legittimo che ci sia. Io ho cercato di fare una presentazione di politica del diritto, di carattere politico e anche giuridico quando si interfaccia in qualche modo con la tecnologia. Sicuramente c'è un problema di segretezza delle informazioni che la direttiva prova a ridurre, a scalfire. E i diritti di informazione degli autori e dei creatori sono molto importanti. Bisogna vedere come funzionerà perché non è detto che questa segretezza possa essere facilmente erosa. Questo molto dipenderà da una serie di implementazioni concrete. Per ciò che riguarda la musica, perché voi vi chiedete, ma questo articolo 17, soprattutto per YouTube, e piattaforme simili, per chi è stato fatto? Solo per un'industria fondamentalmente, la musica. Perché le altre industrie hanno interesse semplicemente a far sì che non ci siano i loro contenuti lì o che ci siano solo i contenuti promozionali, il trailer del cinema o, che ne so, l'episodio pilota di una qualche cosa, ma ovviamente l'audiovisivo non ha nessun interesse all'articolo 17, se non quello di utilizzare YouTube nella misura in cui conviene all'industria audiovisiva. La televisione non vuole che ci siano le puntate che offrono le televisioni sui loro siti, vuole che non ci siano. C'è una logica di tipo, di cosiddetto enforcement. Tu non vuoi che ci sia il tuo contenuto e semplicemente è una cosa che si ribadita. La musica invece, soprattutto gli enti di gestione collettiva tipo la CIA, vede in YouTube e in queste piattaforme una gigantesca opportunità di ottenere remunerazione che non ha mai ottenuto. Perché, ripeto, è come se le piattaforme sociali, le reti sociali da questo punto di vista, costituissero un altro mass media environment alla fine. È una cosa da cui viene fuori potenzialmente tantissimo denaro. Se mi è consentito poi alla fine, questo è un dibattito globale. Noi guardiamo sempre Europa e Stati Uniti l'un contro l'altra armate, in qualche modo. Però non dimentichiamo che questa è una battaglia che si combatte a livello globale e ci sono delle industrie e ci sono dei paesi del mondo che magari a metà degli anni 90 quando sono negoziato il TRIPS erano meno rilevanti, ma per cui le nostre priorità, la priorità di proteggere l'autore, non sono mai state una priorità dal punto di vista filosofico perché non condividono la nostra storia, non condividono la nostra impostazione, non erano nella convenzione di Berna. Quindi quando ci facciamo in qualche modo la guerra, cerchiamo di pensare che poi la battaglia va combattuta a livello di principi, a livello globale ci sono aree del mondo in cui queste cose non contano. Quindi bisogna interrogarsi soprattutto sulle cose che si hanno in comune piuttosto che sui conflitti. Va bene così, io vi rimando alle slides che sono abbastanza esplicative. Grazie, grazie Giuseppe, grazie mille.